Bella raga qua Fabio, sono su Call of Duty Modern Warfare 3 e sono su cinema No aspetta, ho sbagliato, scusate Casaforte Online Mission, riproduce Allora, sono qua perché ho fatto un 38 serie, ci volevo pubblicarlo su Youtube Scusate se non ho messo i video per 3-4 giorni ma era andato a casa di mio cugino e poi sono andato in piscina a Ondaland e allora non ho avuto tempo di mettere i video Questa è stata una bella partita, me la giocavo sullo spondo avversario, nemico Boh, non è su, mi sembra, sulla bandiera A Sì, me la giocavo sulla bandiera A Come volevo dire, domani, ovvero sabato che oggi è che sto filmando il venerdì ma il video lo vedrete di sabato Prenderò Butterfield 3 da mio cugino che me lo impressa per l'estate dato che lui parte, tanto torna a settembre quindi non può giocarci, allora me lo da me Non vedo l'ora di mettere JVD, aspetta un attimo che cerco il mio Questo chi è? Questo chi è? E chi è questo? Toto, aspetta Candemo, ok Prima persona Toglio questo Ok Usavo una CR silenziata A CR 6.8 silenziata con caricatori aumentati E qua ci avevo Ah, qua ero, mi avevano stordito e ne ho ammazzati due Non so manco come ho fatto io Ragazzi, non chiedetemi O qua ne ammazzo un altro, se non sbaglio, sì E avevo già con il gioco di prestigio, quattro Vedete, raga, solo sponda per il nemico Raga, comunque volevo dirvi Che Ah, qua ne ammazzo un altro, due Beh, ragazzi, questi qua erano un po' nabili Ehm, volevo dirvi che Io tra un po' di giorni vado a prenotare Andrò a prenotare Battlefield 4 Non prenderò ancora tutti i Ghost Lo prenderò, sì Verso tipo Natale Quei giorni lì No, qua c'era un camperone Che dopo lo vado a ammazzare Adesso Ehm Prenderò Battlefield 4 Perché dai video di Ghost Dai video di Butterfield Dalle recensioni Mi sembra Miglior Butterfield Anche se non è uscito ancora Nessun video di Ghost Multiplayer Eh, non fatti qua lo vado Lo ammazzo però Anche se non è uscito Nessun video di Multiplayer Ehm Però Da guardare Anche Battlefield 3 Con Black Ops 2 A me piace molto Black Ops 2 Secondo me Migliori COD Secondo me Black Ops 2 È il migliore Di tutti i COD Però Battlefield 3 È davvero bello Si spaccano Cioè Spaccano Ecco Le case I muri Cioè È più reale Ragazzi Poi Ehm Su Battlefield Io non riesco Di giocare Ragazzi È già questo Sono Così così Non sono Un pro Non faccio Tutte queste kill Che faccio Su COD Perché il COD È COD Ragazzi Non c'è niente da fare Il COD Non lo batte nessuno Anche se Ah qua Anche se Battlefield è bello Quest'anno Guardate qua ragazzi C'è C'è uno qua dietro Infatti adesso Lo vado ad ammazzare Ma c'è Ultima speranza Quanto odio le persone Con ultima speranza Guardate qua Scappo via Ma mi ammassa Quello che arriva Lì dietro Ne è arrivato un altro E ne Mi ha ammazzato In realtà qua Non c'è la granata Perché mi era arrabbiato Vedete che sfido Devo rimanere lì Ammazzare a quello Poi alzare subito La visuale Ah lì ce n'era uno Ma non gli ho sparato Non me ne era Non sono accorta adesso Comunque stavo usando Un supporto No specialista Scusate Con A2 kill Invisibile Perché Di solito Chiamano quasi sempre L'elicottero Di supporto Quindi mi rompono Un po' le palle Perché magari Arrivo tipo a 17 kg di fila E mi ammazzano Con l'elicottero Allora la metto Invisibile Poi a 4 Ho Prestigiatore Pro Che mi ricarica Veloce Che è meglio E' buono E poi ho A 6 kill La Cosa 6 kill Ah oltre il limite Corri Più velocemente Cioè corri Normale Veloce Per più tempo Qua mi fregano La kill Intanto Ragazzi Vi consiglio L'MP7 Che è un'arma Favolosa Se abbiamo 3 Non come voi 2 Perché qua Intanto Toto Ciu Cucocco Come si chiamano Sono Due nabbi Cioè Sono scarsissime Ragazzi Non ammazzi Come niente Ragazzi Quando si schiaccia O select Non vi farvi Vedere il risultato Perché Boh Scusate Andalo Lasciamo così Non importa Ah Se vedete Un cerchio In alta Destra Sono le cuffie Che ho appoggiato Sulla table Anche a sinistra A fianco La mappetta C'è un piccolo Un piccolo Sporgenza Lì C'è l'altra cuffia Che l'ho appoggiato Per Non metterle Sulla Schia Qua c'è uno Con Il già No Cos'è Il Qua ammazzo Questo Che è Ciucco Ciucocco Cacchio Si chiama Ciucocco Ciucco Ora Ora Era il nostro Questo Per ora Era il nostro Scondo Quello Infatti L'hanno catturato Ragazzi Adesso Sto cercano Di fare la moab In tutti i modi Possibili Anche camperanno Non mi interessa Basta che faccio la mia prima moab Perché mi sarò davvero rompendo Anche se campero Non mi interessa Basta che Faccio sta moab La metto su youtube Bello Ma qua due Per Doppia kill Doppia kill Ho fatto lì ancora Con il nabbo Con Qua ero già tre Ah qua Ah si Questo pezzo Me lo ricordo Ora Capami Va ragazzi Tra CR Quest Tra Sì Scusate ragazzi Sono un po' Adormentato Vole a dire Tra Questo E L'MP7 Va Questa qua È davvero Devastante La CR Per carità Anche l'MP7 Davvero Secondo me Sono le due Armi Ma forte Forse l'MP7 È un pochettino Più Forte Però Non mi piace Il mirino Mi fa davvero schifo Il mirino Dell'MP7 Questo qua Mi piace Un botto Il mirino Infatti Devo un mio alterno Non so con quale farò la move Con quale riuscirò Se riuscirò a farla Venga ragazzi Guardate qua intanto Skinny Il pinz Che non mi ammazza Ora sì Ero rosso Manca poco ragazzi Manca 28 punti No Beh sì Ora 27 Ora ho cambiato Ragazzi Ho messo Assassino Che ce l'ho come specialità normale L'ho messa in Specialista Come Alla stessa kill Per provare a Fare una kill in meno Visto che non avevo messo ancora Inflessibile Perché Non meno con inflessibile Faccio due assist E Ho una kill Che è molto meglio Perché Se mettete Che faccio sei assist Sono tre kill Ed è già buono Ah qua ne ammazzavo due Ah no tre anche Senza morire Pensavo Pensavo due Poi non ammazzava Quello Non ricordavo se pezzo Ah no qua Mi ammazzano Attraverso davanti Mi ammazzano Ah no Finita la partita Ragazzi È finita la partita Con un Sì ma fate vedere il risultato Come si vede questo risultato Ho visto qua Le mp9 Ecco qua Il risultato 38-13 Boh un buon risultato Con 8 assist Va bene Per Ah vedete Ero a livello 75 Ah si l'avevo sbloccata Le mp7 Però non la usavo ancora Per questo è tutto Se il video vi è piaciuto Ricordate di lasciare un like E aspettatevi Un bel video di Butterfield Bella raga Grazie a tutti Grazie a tutti